Allora, buonasera e siamo in diretta dalla Fondazione Gramsci di Roma per presentare il nuovo libro di Francesca Izzo, cioè questo libro che si intitola Il moderno principe di Gramsci Cosmopolitismo e Stato nazionale nei quaderni del carcere, uscito da poco ed edito da Carocci. Io farò alcune osservazioni introduttive su questo libro, poi darò la parola a Fabio Frosini, darò la parola a Fabio Frosini e a Renate Holub per gli interventi sul libro e infine daremo la parola all'autrice, cioè a Francesca Izzo, che risponderà alle osservazioni e farà ulteriori osservazioni. Allora, io comincerei da questa considerazione. Questo libro, questo nuovo libro di Francesca, direi in generale arriva a valorizzare al massimo quel cambio lessicale che porta Gramsci a sostituire il lemma, la parola, internazionalismo con cosmopolitismo e poi ad articolare questa categoria ulteriormente nel concetto di cosmopolitismo di tipo nuovo o di tipo moderno. Naturalmente alla radice di questa ricerca di Francesca c'è appunto un'analisi dei mutamenti lessicali e dei mutamenti semantici dei quaderni che rinvia a un metodo, cioè a uno studio di tipo diacronico e non più solo sincronico dell'opera di Gramsci, come quello che è stato promosso dall'edizione nazionale e direi dalla migliore recente letteratura gramsciana. all'epoca dell'edizione tematica dei quaderni del carcere i mutamenti lessicali erano interpretati direi anche comprensibilmente come, dirò così, dei comportamenti occasionali, no? Che erano dipendenti dalla censura o da altre circostanze. Per citare alcuni esempi che peraltro vengono anche ricordati nel libro, questo vale per l'uso di filosofia della praxis al posto di materialismo storico o di gruppi subalterni o di masse in luogo di classe o di crisi organica, rivoluzione passiva al posto di rivoluzione. Ora, grazie al metodo cronologico, sappiamo che questi mutamenti lessicali indicano spesso i segni di una trasformazione del paradigma teorico, cioè sono concetti che correggono concetti precedenti, non sono soltanto parole che sostituiscono altre parole senza alterazione di senso e di significato. Però, come mostra il libro di Francesca, con il cosmopolitismo tocchiamo uno snodo veramente decisivo di queste transizioni teoriche. Il libro, direi, segue tutta la vicenda del cosmopolitismo, prima dei quaderni e all'interno dei quaderni del carcere. Il secondo e il quarto capitolo in particolare ricostruiscono l'evoluzione dell'Emma e i mutamenti del campo semantico nei quaderni. Solo il sostantivo, voglio ricordare, il sostantivo cosmopolitismo trova 25 occorrenze nei quaderni, poi una nelle lettere, in particolare nella lettera del 3 agosto del 1931 a Tatiana. Però le occorrenze composite, quindi cosmopolita, cosmopolitico, si moltiplicano, se ho contato bene, sono 97 nei soli quaderni. Come osserva Francesca qui alla pagina 50, nei primi due quaderni di Gramsci il lemma, scrive così, compare sporadicamente. Solo nel quaderno 1, diciamo il paragrafo 150, si osserva, Gramsci scrive, gli intellettuali italiani sono cosmopoliti, non nazionali. Non raggiunge con un'osservazione, che poi sarà corretta nei quaderni successivi, che anche Machiavelli rispetta questa stessa logica del cosmopolitismo degli intellettuali italiani. Però il concetto poi viene messo a fuoco nel quaderno 3, in due testi di stesura unica, che sono dedicati al rapporto, dirò così, complementare tra cosmopolitismo e sciovinismo e alla questione particolarmente importante della lingua. Nel quaderno 8 Gramsci riconosce in Cesare la radice del cosmopolitismo e indica ormai, direi con precisione, la linea della storia intellettuale italiana, quindi intellettuali imperiali, clero, cattolico, intellettuali moderni fino al Settecento. Nel quaderno 9 poi intervengono novità di grande ridievo. Il cosmopolitismo è legato alla coppia rinascimento-riforma. Viene adoperato come analisi differenziale tra intellettuali francesi e intellettuali italiani e Gramsci sottolinea, direi, per la prima volta che il moto, diciamo, storico italiano, non deve necessariamente sfociare nel nazionalismo proprio per le sue tradizioni cosmopolite. Nel quaderno 19, rielaborando questa nota, correggerà appunto internazionalismo con cosmopolitismo di tipo moderno. In generale delinea un cosmopolitismo di tipo nuovo, fondato sulla figura dell'uomo lavoro e perciò diverso da quello del passato, ma scrive Gramsci il popolo italiano è quello che nazionalmente è più interessato all'internazionalismo e questo, direi, costituisce una novità significativa nel percorso teorico dei quaderni del carcere. Ora, come si vede da questi brevi cenni che vi ho proposto, il concetto di cosmopolitismo nella sua, però, appunto nella sua continua evoluzione, nei suoi mutamenti, è veramente al centro di tutti gli snodi principali dei quaderni del carcere. La storia degli intellettuali italiani, quindi Cesare, Dante, la modernità, il giudizio su riforma e rinascimento, quel giudizio influenzato da Francesco De Santis, da Croce, la lettura di Machiavelli, il nazionale popolare, l'internazionalismo, il mercato globale e così via discorrendo. Insomma, studiando il cosmopolitismo troviamo un punto di connessione che spiega l'evoluzione stessa, direi proprio l'evoluzione generale del pensiero di Gramsci, soprattutto nel periodo dei quaderni, nel periodo della carcerazione. Ora, la domanda che il libro ci invita a porre è che cosa c'è al fondo di questa riflessione così inquieta. Ecco, il libro chiarisce, il libro di Francesca Izzo, chiarisce come secondo me non era stato fatto prima, la pur ricca bibliografia su questi temi, come questo tema crescente del cosmopolitismo si vega alla consapevolezza, una consapevolezza precoce ma sempre più acuta che Gramsci ha della fine dello Stato nazionale e quindi della forma politica moderna. Nel primo capitolo il libro ricostruisce con molta precisione la prima formazione di questa coscienza di fronte a Wilson con Norman Angle nel rapporto con il liberalismo e con il liberismo italiani, quindi Croce e Inaudi. Il tema del conguagliamento tra politica ed economia è messo a fuoco, come è noto in un articolo del 1918, per poi direi proprio esplodere dopo la crisi del 1929 ed essere indicato come una delle contraddizioni fondamentali del mondo contemporaneo. Ora, Gramsci ha ben chiaro il valore storico dello Stato nazionale, ecco, come forma progressiva della politica moderna nell'epoca delle rivoluzioni borghesi, ma vede bene come dopo il 1870, no? Secondo la sua periodizzazione, dirò così, la sinfonia, ecco, che la borghesia aveva orchestrato tra nazione e mondo, tra confine politico e tutto economico, questa sinfonia si sia convertita in una contraddizione. Nel quaderno 22 Gramsci userà una formula diversa, quella dell'unico testo di stesura unica di quel quaderno, cioè quella del passaggio dall'individualismo economico all'economia programmatica, no? Un lemma particolarmente usato, per esempio, in quel periodo da Ugo Spirito, insomma, a partire dalla voce enciclopedica che dedicò all'economia programmatica. E secondo me in queste parole va apporto un momento ulteriore di articolazione, no? Della riflessione gramsciana sulla natura della crisi. Francesca scrive nel libro, e qui si delinea, l'immagine di una crisi organica globale. A pagina 167 scrive che, di fronte alla contraddizione dell'epoca, scrive così, nessuna forza gli appare in grado di affrontarla. Né la Russia sovietica, né l'America, né l'Europa. Questo a me sembra veramente il punto essenziale, il punto essenziale nella riflessione di Gramsci. È vero che Gramsci, come Francesca sottolinea, qui alla pagina 147, non ha una visione catastrofica, nel senso che questa parola ha soprattutto nella dottrina del Comintern. Ma io direi che certamente ha una visione molto drammatica dello stato del mondo e comunque presagisce le catastrofi che si avvicinano. Quella che ha di fronte dunque non è una rivoluzione passiva, ma appunto una crisi organica che ha assunto una dimensione ormai globale. Gramsci ha dunque chiaro, come direi nessun altro in quel periodo, né Croce, né Carl Schmitt, né Max Weber, ha chiaro che lo Stato nazionale come forma politica della modernità ha esaurito le sue risorse di fronte a un mondo che il ciclo delle rivoluzioni borghesi ha unificato. Perciò il cosmopolitismo diventa l'orizzonte entro cui ripensare la forma della politica e il suo mutamento morfologico e la stessa democrazia. Questo direi ci rinvia alle dense pagine della prefazione di questo libro, cioè al dibattito attuale sulla democrazia cosmopolitica, da Held, appunto, che viene qui citato, a Habermas. Ora la tensione di cui si parla qui, cioè la tensione tra democrazia e cosmopolitismo, direi è proprio la stessa contraddizione indicata da Gramsci, che però Gramsci ripensa, soprattutto oltre il modello classico di un Mayneck o di un Croce o dello stesso Carlo Antoni, cioè oltre il contrasto, diciamo, teorico di principio tra il gius naturalismo e il principio nazionale e coniuga concretamente, direi, con il ritmo e con la periodizzazione delle rivoluzioni borghesi. Ora una delle parti, secondo me, più importanti e più interessanti, più innovative di questo libro riguarda la questione del territorio. Nel quaderno 17, come certamente ricordate, Gramsci scrive così, che non si può parlare di nazionale senza il territoriale. Ora Francesca nel libro mostra veramente tutta la complessità di questo concetto di territorio, che non indica, per dirla in breve, alla maniera di Carl Schmitt, un semplice ordinamento spaziale, ma indica, direi, il doppio movimento dell'inclusione del mondo contadino nella dimensione nazionale e della nazionalizzazione e popolarizzazione dell'elemento spirituale. Ecco, questa figura del territorio, come connessione, scrive Francesca, tra razionalità politica e vita, rappresenta il movimento proprio della costruzione dello Stato nazionale moderno e spiega anche la centralità del giacobinismo nei quaderni. A un certo punto, pagina 92, Francesca scrive che il giacobinismo è la figura archetipa dello Stato borghese puro. Spiega il ritmo caratteristico delle rivoluzioni passive, quando cioè la funzione degli intellettuali sostituisce quella caratteristica della classe, della classe borghese. Naturalmente, proprio come il libro mostra, proprio questa figura del territorio diventa l'epicentro della mutazione morfologica della politica nel novecento. La crisi organica globale investe in primo luogo il rapporto moderno tra politica e territorio. Tutti questi fenomeni scrive in un passo che voglio citare del libro, pagina 152-153, tutti questi fenomeni segnalano il passaggio epocale dal territorio, luogo della relazione tra ceti urbani e ceti rurali, tra città e campagne e di insediamento dello Stato moderno, alla fabbrica. Un termine che allude a un luogo aperto alle relazioni e agli scambi del mercato mondiale. Ecco, qui mi sembra si apre veramente lo spazio del cosmopolitismo in relazione con la fine dello Stato nazionale e con il principio nuovo dell'uomo lavoro, che dischiude appunto un cosmopolitismo di tipo nuovo, cioè diverso da quello tradizionale, da quello del passato. Ora, nei capitoli terzo e quarto, il libro presenta osservazioni che io ho trovato di grande rilievo di, insomma, notevole interesse sulla filosofia di Gramsci. La novità della posizione filosofica di Gramsci è indicata, mi sembra, dall'autrice nel ripensamento del rapporto tra logica storia, cioè nella ricerca di quello che Francesca chiama il logico storico, logico trattino storico. Questa anche a me sembra la chiave, no? Della doppia critica di Gramsci nei confronti del materialismo e dell'idealismo, cioè, per semplificare, di Bukharin e di Croce. Francesca ricorda opportunamente, un punto che forse meriterebbe poi di essere svolto, approfondito, l'attacco a Lukács, no? Di Rudas e di Deborin. Proprio nel momento in cui Gramsci è a Vienna, proprio quando Gramsci è a Vienna. Ora, è facile osservare che la critica di Gramsci a Lukács, come si legge nel quaderno 4, ed è sostanzialmente ripetuta in seconda stesura nel quaderno 11, va in una direzione completamente diversa rispetto a quella di Deborin. La critica filosofica dell'idealismo da parte di Gramsci si fonda appunto sulla critica della separazione della logica, delle categorie, dalla storia, cioè sul fatto che la logica non ha una genesi e una sintesi nella storia e nella vita. Aggiungerei che è proprio quello che Antonio Labriola aveva rimproverato alle cantiane, cantiane tesi di estetica di Benedetto Groce, del giovane Groce. Gramsci, credo, ha il merito di vedere nella separazione di logica e storia, nella funzione trascendentale attribuita all'elemento logico, il punto centrale di tutta la metafisica contemporanea. E questo è un paradosso, no? Perché le filosofie di tipo trascendentale nascono come critica della metafisica e in realtà costituiscono la nuova metafisica del Novecento. Ora Francesca mostra i concetti strategici con i quali Gramsci cerca di ripensare questo nesso tra logica e storia. In primo luogo il mercato determinato, con tutta la questione del rapporto tra Riccardo e Hegel, che consente a Gramsci di ripensare, direi così, l'economico in senso crociano, quindi l'utile, l'abolizione utile, oltre la trasposizione in termini trascendentali che ne aveva fatta Groce. In secondo luogo il concetto, chiara derivazione marxiana, dell'astrazione determinata, che gli permette di conservare la distinzione delle categorie logiche, anche qui fuori di qualsiasi condizionamento di tipo trascendentale. Ma tutto il discorso, secondo me, si stringe e il libro lo mostra bene nel principio della traducibilità, che rappresenta, dirò così, il motore delle riflessioni filosofiche di Gramsci. Il centro, la base. È un concetto ovviamente che ha tanti risvolti, a cominciare da quello politico, ma che direi filosoficamente indica il processo di formazione dell'universale, cioè il ritmo dialettico, siamo di nuovo all'obiezione a Lukács, del rapporto tra parti e totalità. Gramsci lo deriva dalle sue fonti, Marx, Lenin, Spaventa, Croce, il pragmatismo, ma noi direi oggi possiamo ricordare che questo principio ha una storia importante nella filosofia europea, da Humboldt, no? Si pensi al grande saggio di Humboldt sulla traduzione del 1816, a Schleiermacher, a momenti della storia dell'ermenentica. Insomma, tutti quegli autori che hanno elaborato una teoria della traduzione non come versione lessicale, ma come trasmissione storica e come circolazione concettuale. Nel concetto di traducibilità si addensa, direi, quel tentativo di ripensare il rapporto tra logica e storia, che costituisce il centro di tutta la riflessione filosofica di Gramsci. Nel libro non mancano sguardi anche critici, se ho inteso bene, sull'eredità teorica di Gramsci. I punti principali mi sembrano due, se ho letto bene il libro. Il primo aspetto riguarda il concetto gramsciano di natura. Francesca ricorda, e chiamiamo poi in causa Renate, che queste cose le ha studiate meglio di tutti noi, i rischi postmodernistici della posizione di Gramsci. E richiama, ricorda un'osservazione di Cesare Luporini, che non riusciva a credere, scrisse così Luporini, che la natura umana fosse tutta storica, cioè che non ci fosse. Ora io, dal mio punto di vista, aggiungerei che la questione, tutto sommato, nasce da Marx. Ecco, Gramsci la eredita. Insomma, non certo dal Marx foyerbachiano della Sacra Famiglia, insomma, l'abbozzo sulla storia del materialismo, per intenderci, ma certamente dalle tesi su Feuerbach, dall'ideologia tedesca, e poi più tardi anche il primo foglio delle note sul programma di Gotha. Insomma, c'è il bisogno, che è elemento naturale, o meglio direi elemento animale, però per me è difficile immaginare in Marx una vita, che non sia produzione sociale della vita, portata dal capitalismo e poi anche dal comunismo a livello globale. È un punto, secondo me, di grande importanza, di grande interesse e di grande difficoltà, però dirimente per il marxismo, per il marxismo teorico. La filosofia della praxis, io direi così, anche in Gramsci, non considera la natura come una costruzione artificiale, alla maniera, per dirlo semplicemente, dei teorici del postmodernismo, ma certamente la considera come produzione sociale, cioè sempre ricoperta da una funzione di tipo sociale. La seconda osservazione, pagina 136-141 del libro che Francesca propone, riguarda la religione. Ora, anche secondo me non c'è dubbio che l'idealismo, usiamo questa categoria diciamo storiografica, non riesce a rendere conto del problema della religione. Questo è il punto di partenza. La controprova è nella difficoltà che l'idealismo ha sempre avuto a concepire una storia delle religioni. Non c'è una storia delle religioni, una vera e propria storia delle religioni idealistiche. E anche qui direi la radice del problema è in Hegel, cioè nel modo in cui Hegel aveva tentato di sfuggire alla riduzione illuministica del fatto religioso. La soluzione hegeliana portava tutto sommato a una nuova riduzione, comunque verso la ragione, verso la filosofia. E quanto al contenuto la storia hegeliana delle religioni è una storia della filosofia, non è una storia propriamente delle religioni. E questo problema è ereditato certamente da Gentile, fino alla lettura sistematica della religione come momento mistico della oggettività, e diversamente, come Francesca ricorda, anche da Croce. Gramsci, secondo me, qui coglie il problema, riconducendo la religione a visione del mondo con una norma morale di vita, quindi rileggendo il rapporto della filosofia, della praxis con la religione non più in termini di superamento, ma di conflitto o di conversione nel mito. Ma certamente non riesce a scioglierlo, questo mi sembra il punto, il punto essenziale. Non riesce, cioè, a restituire alla religione una funzione propria, riconoscibile nella storia umana. E aggiungerei in breve che questo poi sarà, in fondo, il problema di De Martino, di Ernesto De Martino, un altro autore che Francesca ha studiato. Infine, ultima osservazione e concludo, secondo me una delle parti più innovative di questo libro è il sesto e ultimo capitolo, dedicato al moderno principe, che appunto figura anche nel titolo del libro. Ora, come tutti ricordano, nel quaderno tredici, elaborando qualcosa del quaderno otto, Gramsci parla, scrive così, della forma drammatica del mito, della forma fantastica e artistica del principe, come diciamo simbolo, no, della volontà collettiva. E questa forma è certamente indicata, all'inizio del quaderno tredici, come un modello di esposizione politica, che supera sia il trattato scolastico di tipo sociologico, sia l'utopia. Francesca, se io ho compreso bene queste importanti pagine del libro, legge la forma drammatica del mito come sintesi e connessione tra spontaneità, passione e ragione politica. La forma mitica che trasfigura, diciamo così, l'ideologia politica in immagine, ha dunque questa funzione produttrice di sintesi tra termini distinti, tra termini distinti, quali per Gramsci sono l'economico e il politico. Come Francesca spiega, è chiaro che Gramsci lavora sulla distinzione di Francesco De Santis tra fantasia e immaginazione. E con questa ripresa del concetto de Santisiano di fantasia, Gramsci può operare, direi, la critica non solo del mito di Sorel, ma della politica passione di Croce. E la questione, secondo me, emerge nella maniera più nitida nei passi dei quaderni sull'autonomia della politica, no? Che è il caso tipico di distinzione, di teoria della distinzione. Per Croce, in fondo, la politica è passione perché si risolve nell'utile, rimane distinta e anche separata dalla razionalità del momento logico, cioè in breve dalla verità. Siamo di nuovo a quel problema del logico storico, no? Del rapporto tra passione e ragione di cui dicevamo prima. Gramsci, invece, solleva la politica oltre la dimensione economica, oltre la dimensione passionale, oltre la vitalità. Le restituisce così un compito propriamente razionale. E come si legge nel quaderno tredici, la politica è il primo grado delle superstrutture. Quindi si distingue dalla struttura, si distingue dall'economia, ma al tempo stesso vi è connessa circolarmente. La forma drammatica del mito, così come il libro ce la presenta, secondo me ci permette di comprendere meglio questa connessione, questa connessione, la produzione di questa sintesi, cioè la relazione viva tra passione e ragione politica proprio come principio produttivo della politica moderna. Ecco, queste erano le osservazioni, più o meno nel tempo prefissato, che volevo proporre sul libro di Francesca. A questo punto io do la parola a Fabio Frosini, in ordine alfabetico. Fabio Frosini in questa sede non ha certamente bisogno di alcuna presentazione, ricordo soltanto che è professore di storia della filosofia all'Università di Urbino, dove si trova. È autore di numerosi, importanti, a volte fondamentali studi su Gramsci, ma non solo. Si è occupato di questioni che riguardano il rinascimento, Machiavelli, il pensiero di Leopardi e mi piace soprattutto ricordare forse il suo ultimo libro nel 2020 per l'edizione di storia e letteratura, quel libro che si intitola Artifiziosa Natura e che è dedicato a una lettura, da cui io personalmente ho imparato veramente molto, di Leonardo da Vinci, dalla magia alla filosofia.